Ciao a tutti amici di Apple Magazine, in questo video presentiamo un'app dal titolo Alberghi Touring 2014. Si tratta di un'app rivolta a chi viaggia spesso, ma anche a chi lo fa settuariamente e vuole cercare i migliori alberghi di una città senza prendere fregature. L'app è strettamente legata al sito Touring Club, azienda storica che si occupa di viaggi ed è quindi indice di affidabilità. Dall'interfaccia principale, che è quella che vedete in questo momento, possiamo selezionare la località di cui vogliamo cercare gli alberghi, proviamo Firenze per esempio, e nella colonna di sinistra avremo la lista degli alberghi presenti nel database del sito e sulla destra ci sarà la mappa con le targhette per identificarli sulla base della posizione. Per quanto riguarda il database, secondo me potrebbe essere un po' più ricco. Io ho fatto una ricerca su Roma, la mia città, e alberghi che sono qui vicino perché conosco la zona, non vengono segnalati dall'applicazione. Tutto sommato comunque rimane un buon punto di riferimento perché gli alberghi non sono così pochi. Una volta scelto l'hotel adatto alle nostre esigenze, scorrendo tra quelle a disposizione, basterà tappare sull'etichetta ed entrare nelle informazioni. Ci sarà una piccola introduzione, la possibilità di chiamare, di andare al sito ufficiale e di inviare un'email e per molti è presente anche la possibilità di prenotare direttamente dall'app. Qui in basso ci sono tutti i servizi che vengono offerti dall'albergo. Dopodiché possiamo, una volta arrivati lì, prendere le nostre note ed aggiungerle all'applicazione e anche scattare delle foto per avere una documentazione di quello che abbiamo vissuto. Ovviamente tutto connesso al navigatore e qui in alto c'è l'indicazione delle stelle e di quanto può essere costoso. Ovviamente si può aggiungere ai preferiti, si possono condividere le informazioni con gli amici ed avere tutto a disposizione in questa applicazione. Una volta salvate le informazioni che più ci interessano su un albergo per avere un nostro piccolo database, basta passare alla mia guida e scorrere le foto, le note, scorrere i preferiti, gli alberghi che abbiamo salvato e le schede. Nelle info abbiamo praticamente una leggenda dei simboli che troveremo nell'applicazione con ciò che riguarda le fasce di prezzo, sul dormire, sul vitto e l'alloggio praticamente. Evidentemente ci sono anche degli sconti per chi è associato al Touring Club. Dopodiché ci sono la classificazione e valorizzazione di Touring, qui, in base alle stelle, la qualità dei cibi e tutti gli altri servizi. Questa è una guida quindi redatta direttamente dal sito, le stelle non sono correlate necessariamente con quelle ufficiali degli alberghi, ma c'è una classificazione interna che viene stirata da loro. Cosa dire, per chi viaggia mi sembra un ottimo compagno questo software e quindi lo consiglio vivamente per chi avesse esigenze di questo tipo. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima.